i veterani possono avvicinarsi all'ingresso del ring d'onore prego prego i veterani possono avvicinarsi dunque Bovaro del Bernese Schnauzernano Chinese Crested Dog Bassotto Caningen a pelo duro quattro soggetti per tre premi nel frattempo si preparano nel pre-ring le razze italiane il giudice preposto a valutarle è già nel pre-ring e non saranno ammessi ingressi di ritardatari based in show veterani è riservato ai soggetti che hanno compiuto gli otto anni Chinese Crested Dog Puff cioè con pelo questa razza forse è più conosciuta nella varietà senza pelo ma sono entrambe ugualmente rappresentative del tipo Bassotto Nano a pelo duro Quanti ricordi a chi ha la mia età oppure prossima alla mia età questa musica che risale a 30-40 anni fa va sempre bellissima bene vediamo che cosa ha deciso lo giudice che si complimenta con i concorrenti tutti quanti ce ne sarà uno che rimane deluso bel applauso a tutti bel applauso a tutti a tutti e a tutti se lo sono meritati terzo classificato raggiunge sul podio la giudice il Bassotto terzo classificato immediatamente seguito da lo dalla dallo schnauzzer schnauzzer best in show veterani Perugia 2019 Chinese Crested Dog complimenti ai vincitori e il nostro simpatia e il nostro applauso anche al concorrente che purtroppo esce accompagnato solo dal nostro applauso ma potrebbe avere diritto al Umbria winner se il soggetto è nato e allevato in Umbria nel frattempo intravedo che l'esame delle razze italiane nel pre-ring si è concluso per cui appena si libera il podio potremo andare avanti con il prossimo raggruppamento grazie a tutti Grazie.